Come raggiungere il successo nella tua carriera da freelancer o da marketer, solo prenumer? Ora ti racconto 5 cose che nessuno finora ti ha detto sulla verità che c'è dietro il successo. Molte persone qui sul web o non sul web iniziano a parlare di successo svelandoti le loro conoscenze, i loro segreti che gli hanno permesso di raggiungere 10k al mese 7 clienti in 7 giorni altospendenti e a scalare la loro attività con un metodo imparato dal businessman di turno il più grande di tutti i tempi. Ok, queste persone qui magari ti fanno fare un corso due corsi, una consulenza e poi inizialmente fai qualcosa ma ritorni dopo un po' di tempo al punto di partenza. Questo perché? Perché quello che ti hanno venduto come successo, idea di successo e strumenti che ti servono per realizzarlo è tutta fuffa. Ok? Perché hanno confuso ciò che sono gli strumenti da quello che sotto gli strumenti fa funzionare tutto che siamo noi, siamo noi gli esseri umani. Quindi oggi ti voglio raccontare 5 cose che nessuno ti ha detto delle persone di successo che hanno realizzato qualcosa e perché secondo me, dal mio modestissimo punto di vista ci sono riuscite. La prima è che loro quando volevano fare qualcosa e hanno realizzato qualcosa se ne sono fottuti dall'essere perfetti. Cioè non hanno aspettato di essere perfetti efficaci, giusti, corretti prima di agire, prima di iniziare. Hanno agito subito e mano a mano hanno con i feedback ricevuti con i pareri delle persone, recensioni e cose varie hanno sempre ottimizzato e migliorato quello che facevano. Quindi non hanno mai aspettato di essere perfetti pronti giusti per poter iniziare. Il perfezionismo è una rogna quindi la prima cosa da fare è togliersi di dosso questo vestito del perfezionista anche perché nessuno è perfetto e ognuno di noi ha i suoi lati ed è normale che ci sono lati positivi e lati tra virgolette meno positivi. La seconda cosa e il secondo motivo che ha permesso alle persone di successo di riuscire a fare è fregarsene del giudizio altrui. Questo non vuol dire essere arroganti o comunque non pensare al fatto che c'è qualcuno con cui devi garantire quindi ha un giudizio su di te e bisogna riconoscere un certo valore a quel scambio che c'è quindi fregarsene di qualsiasi persona magari ti dica che non gli piace no, non significa quello il giudizio altrui significa che non ti interessa del giudizio di quelle persone che ti vanno a toccare i tuoi lati deboli delle tue mancanze di quelle che si focalizzano solo su i ma e i però che tu hai messo in atto poi è bello pure fregarsene un po' del giudizio c'è una certa leggerezza c'è un certo senso di tranquillità stare con la consapevolezza che comunque in questo mondo ci sarà sempre quell'essere umano bestiale che ha sempre del veleno in bocca da sputtare a qualcuno quindi se aspetti che il mondo cambierà prima di fare qualcosa tanti auguri la terza cosa il terzo motivo che ha permesso alle persone che sono arrivate a un certo successo di raggiungere tutto ciò è stato sicuramente quello di saper gestire quello che viene chiamato la sindrome dell'impostore la sindrome del tallone d'achille anche che molti non lo riconoscono ma è una cosa molto simile la sindrome dell'impostore della sindrome del tallone d'achille sono cose che non riusciamo e non possiamo superare levarcele di dosso da un giorno all'altro così sono cose che dobbiamo riuscire a mettere in chiaro che ce l'abbiamo e a riconoscerle e a gestirle questo che vuol dire che invece di guardare tutto ciò che noi abbiamo come punti deboli i nostri limiti continuamente a iperfocalizzarci su quella cosa lì e quindi soffrire di questa cosa qui per questo c'è la sindrome dell'impostore perché si guarda sempre i lati negativi di quello che ci manca di quello che non riusciamo a fare di quello che non siamo utili invece di concentrarsi su tutte le cose che sappiamo fare che possiamo essere utili e siamo bravi anche e ci piace fare quindi focalizzarsi troppo su quella cosa lì specifica non ti permette poi di dare un servizio anche buono alle persone perché ti focalizzi sempre sul tipo sfidare te stesso col far fare agli altri qualcosa che tu devi riconoscere se sei in grado di fare no fai le cose che se fare è bene e ti piace fare tante sono le cose secondo me è inutile cercare sempre di trovare la sfida per poter superare quel senso di disagio in qualcosa che non non ci viene bene e vogliamo perché ci siamo fatti un'idea di qualcuno che ci ha detto che dobbiamo diventare in quel modo di diventare cioè facciamo quello che sappiamo fare nel nostro posto nella nostra posizione la quarta cosa che è un quarto motivo che invece è riuscito pure alle persone di successo che alle persone di successo diciamo hanno avuto come caratteristica è quella sicuramente del non pensare troppo cioè il pensare troppo continuamente di avere le idee e poi rivalutarle poi ripensarle poi approfondirle poi cambiare idea poi provare ma non provare e accumulare tantissime informazioni corsi videocorsi consulenze cose diverse per poter essere più saggi magari essere più conoscenti di una materia e sentirsi più sicuri ha portato all'esuarimento ti porta all'esuarimento quindi le persone di successo che hanno fatto hanno preso minimo input di quello che hanno raccolto nella loro vita e l'hanno trasformato subito in un output in qualcosa che veramente gli può già aiutare a mettere in servizio a fare quindi trova quel piccolo input che ti serve per poter fare poi un grande output cioè una grande creazione il quinto punto che non è per importanza l'ultimo ma forse uno dei più importanti è che le persone di successo sono arrivate lì ma non grazie solo a loro stessi ma soprattutto grazie all'aiuto che hanno avuto tramite amici colleghi o comunque mentori che si sono trovati o comunque hanno cercato nel loro percorso professionale imprenditoriale non hanno mai fatto da soli tutto ciò le persone di successo c'è sempre stato qualcuno che insieme a lui ha avuto un viaggio insieme verso il loro percorso che sono confrontanti continuamente su quello che si stava facendo che parlavano la stessa lingua che si sentivano compresi quindi il fare da soli anche se ci sono tutorial video libri videocorse che ti insegnano queste cose qui non ti aiuteranno mai quanto ti aiuterà una persona in diretta a darti quello che ti serve in quel momento come feedback come confronto per la tua carriera per questo io ho creato poi tutto il mio percorso dietro perché mi sono reso conto che la pecca che c'è in questo momento è proprio quella di una marea di videocorsi magari pure vecchi e brutti una marea di coach di formatori calze e mazzi che ti vendono degli strumenti e poi non ti aiutano a superare quelle che sono le nostre difficoltà più umane quindi se ti interessa quello che faccio io il link in descrizione trovi il sito per candidarti al percorso penso che per oggi ti abbia detto tutto su questi cinque punti che secondo me sono molto importanti e quindi per riassumere sono il perfezionismo che le persone di successo non hanno la paura del giudice altrui l'accumulo di informazioni saper gestire la sindrome dell'impostore il sindrome del talone dell'achille e il fare tutto da soli quindi avere dei mentori al posto di fare tutto da soli penso che ti abbia detto davvero tutto per il momento se ti è piaciuto metti un like commenta questo video e ci vediamo al prossimo ciao